Seconda puntata dello sviluppo del gioco Memory con JavaScript e JQuery. Prima di vedere la mia proposta per la soluzione dello step 2, che ho anticipato come richiesta di compitino la volta scorsa, vediamo la versione, la variante avanzata dello step 1, che permette di variare a piacere il numero delle caselle presenti nello schema di gioco. Eccolo qui. Cambia solo il momento in cui chiedo di preparare il terreno da gioco, perché posso specificare un parametro che è il numero delle caselle del lato della griglia. Quindi 7, vorrà dire un quadrato 7x7 con 49 caselle. Io ho scelto di aggiungere prima quelle 49 caselle, o meglio, non caselle per non caselle. Come l'altra volta. A struttura appendo il div della carta. Poi però, adatto le regole CSS in modo da essere coerente con il numero delle caselle. Cioè, in primis, per 49 caselle è ovvio che la dimensione della cornice che sta intorno alle carte, quello che è il div struttura, ricorderete, deve essere ingrandito. Di quanto? Vado a leggere con questo selettore, che aggancia i div delle carte, e poi con .css-wift, di per sé il selettore $.carta restituirebbe un insieme di tutti quelli che appartengono a quella classe. Infatti, se qua comandassimo un assegnamento, css-wift, virgola 100 pixel, andrei a segnare quei 100 pixel a tutti gli elementi dell'insieme della classe .carta. Ma quando si legge un valore, come stiamo facendo adesso, di quale dei div o degli elementi che appartengono a quella classe ci fornirebbe indietro come risultato questo comando? Quello del primo. Del primo degli elementi selezionati. Però, visto che tutti i div hanno lo stesso valore di Wift, la cosa ci sta bene. Uno varrebbe l'altro. C'è ancora un particolare da gestire. Il valore restituito da $.carta.css-wift non è il numero 120 secco, è 120px, la stringa contenente anche px. Devo allora convertire questa stringa nel numero che rappresenta. Sto sfruttando il comando parseInt, che trasforma una stringa, quando ha un senso, nel numero in esso contenuta. Scartando un'eventuale parte che non è convertibile. Quindi, se è 120px, arriva fino a 120 e poi scarta semplicemente la parte che non è convertibile il numero, il px. E ci ritroveremo con il valore 120. Certo, avrei potuto mettere direttamente 120, ma se un domani volessi impicciolire o ingrandire le carte, io, com'è la carta, così la utilizzo. Per cui vado qui alla fonte a leggere qual è la sua larghezza e in base a questa calcolo quanto larga deve essere la cornice, quanto ingrandire o impicciolire la cornice struttura. Non vi sfuggirà che qui non ho indicato al momento nessun width, perché lo sto calcolando qua sotto. In questo modo, la dimensione del div che farà da cornice, la struttura, è quanto è larga una carta, il valore appena rilevato qui, si diceva, più un po' di margine che separa le carte le une dalle altre, per il numero delle caselle. In questo esempio, 7. Quindi diventerebbe il 120, che è la larghezza del div di una carta, più 30, 150, moltiplicato per 7. Poi non è che si debba essere precisi al millimetro, no? Con questo valore vado a impostare di struttura, che qua seleziono con questo selettore di D, aggancio quel div e dico, guarda, la tua larghezza, width, è questa appena calcolata, dimensione struttura. E siccome di griglia quadrata si parla, con lo stesso valore vado a impostare anche l'altezza, height. Notate come non lo stia facendo con due comandi separati e ripetuti, do loro struttura CSS, ma in cascata, qui infatti non c'è nessun punto e virgola, ma idealmente dovesse proseguire con questo secondo comando che agisce sul primo. Il primo mi restituisce ancora struttura, perché jQuery è organizzato proprio così. Quando io comando qualcosa su un oggetto o un gruppo di oggetti che ho selezionato con il loro selettore, il risultato del comando è un riferimento agli oggetti stessi, quindi posso in cascata comandarci sopra qualcos'altro. In pratica questo mi dà indietro ancora struttura, e ancora su struttura comando un'altra volta il CSS, questa volta per cambiare la regola per l'altezza, e qua però sì che manca un punto e virgola. Proviamo il risultato, eccole qua, 367x367, cambiamo valore, ecco la griglia da Tris. Va bene, ma questa era un'automizzazione, qualcosa che rende di partenza lo schema più flessibile, ma il vero step 2 su cui lavorare era un altro. Vedere se sei capace di far apparire nei div un'immagine, sempre la stessa, un piccolo passo. Cosa cambia? Davvero poco, ho comunque usato lo schema non avanzato, quello con le 16 caselle fisse per semplificare le cose. Prima l'append aggiungeva soltanto la struttura del div, adesso, vedete, qua in mezzo ho aggiunto questa variabile, più img, più quello che c'era già prima. Insomma, ho costruito una struttura che corrisponde a un tag img, e l'ho memorizzata nella variabile img. È appena qua sopra, è facile da seguire. L'ho fatto qui perché è più difficile confondersi, soprattutto quando si sarebbe invece costretti a scrivere delle lunghissime righe con dei pezzi di stringhe che si sommano a variabili, è facilissimo poi perdersi in un particolare, un apice mancato, e cose di questo tipo. Personalmente trovo questa tecnica progressiva più efficace e anche più efficiente. Ovvio, dobbiamo avere ben chiaro quale sia il tag di un'immagine, ma immagino di sì per tutti, non sareste qui. E allora, si inizia con l'apertura del tag, minore img, assegno un id, magari ancora non so se mi servirà davvero o no, però intanto che ci sono, l'ho fatto. Un id semplicissimo che corrisponde semplicemente ad un'enumerazione progressiva, per cui la prima immagine che viene aggiunta ha come id 0, perché è semplicemente il valore della i. Vedete qua, dopo id, metto l'apice, che segna l'inizio dell'identificatore, aggiungo il valore che ha in questo momento la i, 0, 1, 2, eccetera, poi chiudo subito. Infatti, riprendendo qua, dopo le virgolette, c'è subito l'apice di chiusura dell'id di questo img, che è costituito in pratica da una sola cifra. Il primo sarà 0, e l'ultimo 15. Altra parte importante, sempre la stessa immagine si era detto. Bene, allora l'SRC contiene un riferimento fisso, dentro la cartella img mem, questo è il mio caso, per voi fate voi, e ho un'immagine chiamata logo.gif. Non dimentichiamoci anche di aggiungere, perché è importante, un testo alternativo, che sarà utilizzato per la guida di persone che hanno difficoltà nel leggere la pagina, e potranno sfruttare in modo efficace un lettore sintetizzatore vocale, ma anche quando per qualche motivo l'immagine non potesse essere caricata, si è corrotta, il server da cui la stiamo pescando è down, ecco, almeno viene fuori una descrizione. Logo.gif. Sono tornato nella sezione style, perché, avendo aggiunto a questo punto gli img dentro i div di classe carta, c'è un particolare da gestire, non da poco, altrimenti le immagini potrebbero essere troppo grandi, e assolutamente non starci nella nostra griglia. Ecco allora questa regola, che va a catturare gli elementi img contenuti direttamente in un elemento di classe carta, cioè in e div di classe carta. Insomma, img che abbiamo appena aggiunto. Loro potranno occupare, d'accordo, tutto lo spazio, ma solo quello delimitato dal contenitore div carta, di classe carta. Non oltre. Quindi, questi 120 pixel. Però, aver indicato in modo percentuale le dimensioni, permetterà facilmente di modificare questa, non so, 200, e automaticamente anche l'immagine si adatterà. Lo step 2 è completato. Come al solito, per il prossimo video, vi lascio un compitino incrementale. Se siamo stati capaci di incastrarci dentro l'img con questa parte sempre fissa, dovremmo modificare questa riga in modo tale da spezzarla appena prima del nome dell'immagine e trovare un modo di cambiare ad ogni ciclo, ad ogni iterazione, questa parte. E vi concedo due scenari. Il primo, più semplice, fare affidamento sul fatto che le immagini nella cartella imgmem abbiano un'omenclatura regolare, cioè la prima si chiami img1.jpg la seconda img2.jpg eccetera, costruire la stringa del nome qui al posto di logo.gif usando ancora il valore della i. Ma questa non è una soluzione soddisfacente perché vorrebbe dire che sempre le immagini partendo dal vertice in alto a sinistra della griglia sarebbero sempre le stesse. 1, 2, 3, 4 funziona la prima volta poi equivale a barare per cui secondo scenario che permetterà anche di mischiare le carte al momento opportuno preparare un array di stringhe con dentro i nomi delle immagini e qui sarete voi a distribuirle un po' a caso. Non è perfetta neanche questa soluzione però prima di cominciare a ricordare la posizione delle carte si potrà fare più di una partita sicuramente per i vecchietti come me anche decine di partite. ma arriva il momento in cui impareremo anche a mischiare ad ogni partenza della pagina queste carte in modo da rendere il gioco perfetto da questo punto di vista. Tornando per un attimo al codice dovrete sostituire a questa stringa fissa logo.gif un riferimento all'iesima immagine che si trova nell'array quella avrete messo e quella vi ritroverete di più non vi dico a risentirci. di più Grazie.